Due opere di street art realizzate dagli artisti GUE e ROSC & LOST per impulsi urbani. Un progetto creato dall'incubatore di idee quale è l'Urban Center con lo scopo di riqualificare la zona artigianale della città attraverso interventi artistici. Non imposti ma concordati con le stesse aziende. Aziende che liberamente sceglieranno se eseguire e come valorizzare il proprio contenitore artigianale. La street art ha incontrato momenti musicali, laboratori didattici e soprattutto un convegno che ha ben chiarito la differenza tra il graffitismo e la street art anche attraverso la presenza degli autori del libro Graffiti, Arte e Ordine Pubblico, Alessandro Dallago e Serena Giordano, docenti universitari. Hanno ripercorso il concerto di arte di graffito e fatto un escursus storico che ha portato fino alla street art. Un'arte che produce nuove forme artistiche, capace di valorizzare interi quartieri o denunciare problematiche inerenti diverse zone. L'esperienza coordinata dalla professoressa Ornella Fazzina, docente dell'Accademia delle Belle Arti di Catania e curatrice del progetto, è stata valorizzata dall'architetto Virginio Piccari, direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, che ha ripercorso l'esperienza che già ha permesso di valorizzare ampie zone di Catania proprio attraverso la street art. Piccari ha sottolineato che vanno valorizzate le amministrazioni che procedono con uno sguardo verso il futuro e investono sull'arte. L'apertura del convegno che si è tenuta alla Galleria d'Arte Contemporanea, affidata al sindaco Razio Scalorino, che ha sottolineato come Floridia, città giovane, è pronta anche per un'esperienza culturale del genere. L'architetto Flavio Spadaro e l'ingegnera Carla Barbanti hanno voluto sottolineare quel percorso partecipato per la valorizzazione della zona artigianale. Il professore Salvo Sequenzia, dell'organizzazione I nuovi segni, ha sottolineato i codici dei luoghi e i codici dell'arte contemporanea con un dialogo continuo. Allestita per l'occasione anche una mostra fotografica, luogo del lavoro a cura di Giuseppe Borgione e dell'archivio del Museo Etnografico Nunzio Bruno. Dalla riflessione critica sul fenomeno della street art è stato suggerito come l'hate motive è che gli artisti sono portatori sani di bellezza e cultura e che l'arte non imbratta, non ghettizza, ma valorizza ciò che invece è lasciato nudo o sciamento. Dalla riflessione